Questo è lui che chiama per scusarsi, perché no, proprio non ce la fa a tornare per cena. È anche la soffiata che incastra il corrotto capo dell'antidroga. Ovviamente anche il centro trapianti che ha un cuore disponibile per la paziente in coma. Dipende solo da qual è la tua serie tv preferita. Vieni a vederle tutte. Roma Fiction Fest, dal 6 all'11 luglio. Il festival per gli affassionati di serie.